Allora abbiamo il vice del mestre sorridente Stefano Furlan perché oggi insomma oltre al risultato bisogna dire che la difesa ti ha limitato quasi all'ordinaria amministrazione fosse sempre così? Magari, poi quando si vince c'è sempre il sorriso per cui va benissimo così Rischi di annoiarti se le partite sono poi... Non preoccupare col tifo dietro che canto con l'oro non è niente male direi. È stata una bella sensazione difendere i pali della Triestina insomma nel secondo tempo con la Furlan alle tue spalle che incitava la squadra deve essere davvero una grande emozione. Sì, ti vengono i brividi quando senti l'oro che saltano, che cantano e proprio una marcia in più ti danno. Sei preparato adesso per un paio di mesi a ricoprire il ruolo di vice del mestre? Lui ha detto parole molto belle nei tuoi confronti poco fa. Sì, siamo amici da tanto e vedremo di fare il possibile, certo sai l'eredità di del mestre non è facile, no no dai cercheremo di fare il meglio possibile. Comunque insomma adesso a parte il discorso del ruolo eccolo Simone che arriva subito e ci dà e ci dà così una novità, una ultima ora che insomma vediamo se non si è sentito il microfono la facciamo dire a te. Ci sono già gli auguri di Simone del mestre, la facciamo dire a te allora. No niente, ho deciso due venerdì fa che il 26 di novembre mi sposo e quindi il 26 che è un lunedì che sono libero, no? Così anche i miei amici sono tutti liberi e allora tutti in comune a sposarsi, no almeno io, gli altri miei amici sono là che mi sostengono tu a sposarti e gli amici a fare da companatico, da conto. Esatto esatto esatto. Beh augurissimi allora anche se manca ancora un pochino sei pronto? Sì sì sì, la decisione è presa così quindi. Lei soprattutto è pronta? Ma lei mi sa che non lo sa ancora, forse lo devo dire no? Approfittane qua. Sì sì vabbè, oggi sposiamo eh. Simpaticissimo Stefano Furlan, grazie e bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ciao ciao ciao.